Siamo in un bischotto, guarda, vuoi questo, vuoi questo, vuoi questo, vuoi questo, gioca prima con la palla, gioca con la palla, tui freddi, tui freddi, eccolo con questo vuoi, andiamo, 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 venite, e cuccia, faccia un poco, seduta, seduta, sedi, sediamo, prendiamo il biscottino, siediti, e siediti, siediti, vuoi il biscottino, si, e siedi, seduto, seduto, guarda là, guarda là, andate lì, andate lì, andate lì, andate lì, guarda, biscottino, eccolo qua, eccolo qua, eccolo là, qua Johnny, Johnny, eccolo qua, mmm, com'è buono, lì, andate lì, e buono, sono andate lì, andate lì, e buono, prendi, 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 eccola qua, Johnny, prendi prendi, prendi la pallina da Dany, prendi, prendi la pallina Johnny yeah yeah Sonia